Ancora una volta la litoranea si tinge di sangue, incidente mortale nella notte poco dopo le due a Capaccio Pestum. La vittima questa volta è un 42enne che svolgeva il lavoro di custode di uno stabilimento balneare. L'uomo è stato investito lungo la litoranea e località Focesele. Purtroppo per Sergio Polito non c'è stato nulla da fare, il custode, da anni residente in zona marginale di Altavilla, Silentina, era conosciuto e stimato. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo, per cause ancora da chiarire, è stato travolto da un'auto in transito e l'ha colpito mortalmente. Alla guida della macchina un ebolitano, che probabilmente stava rientrando da una battuta di pesca. Dopo l'impatto si è subito fermato a prestare soccorso, allertando il 118. Sul posto anche i carabini della compagnia di Agropoli, coordinati dal capitano Francesco Manna, che stanno svolgendo le indagini del caso.